Qui in Fiera Expo de Tergo quest'anno presentiamo un nuovo gruppo termico di ultima generazione composto da una caldaia a tre giri effettivi di fumo dotato di speciali tubi da fumo Esalu completi di bruciatore premix per ottenere un valore di NOx quindi di ossidi di azoto in atmosfera inferiore ai 30 mg la caldaia è completa di un economizzatore che porta il rendimento globale della macchina a circa il 98% poi abbiamo un sistema di gestione elettronico mediante PLC idoneo ai requisiti della 4.0 il sistema è poi possibile governarlo attraverso un'applicazione che come Unica diamo in dotazione per poter fare la telegestione e la teleesistenza da remoto nuovo generatore di vapore di tipo elettrico ultima novità di Unica presentata in Fiera Expo de Tergo nuovo generatore dotato di resistenze elettriche per la produzione di vapore perché noi di Unica siamo convinti che l'elettrico prenderà sempre più piede rispetto al combustibile fossile il nostro staff tecnico è già al lavoro per aumentare la capacità di produzione di vapore di queste macchine arrivando fino a 2 megawatt nel mercato estero in Unica stiamo raccogliendo i frutti di un grande lavoro fatto negli anni passati che sta cominciando veramente a dare forti soddisfazioni dove il mercato si sta ampliando e si sta consolidando in molti paesi parlo soprattutto dell'Australia come fino all'anno scorso anche la Russia e i paesi del Golfo la sfida in questi paesi dove purtroppo avere un prodotto green ed efficiente è ancora poco sentita appunto la sfida è proprio quella di cercare di portare anche questa tematica sul tavolo di questi mercati per valorizzare ancora di più i nostri prodotti che appunto stanno avendo un bel successo Unical Beyond Fire